buonasera salve a tutti bentrovati nel canale benvenuti in questo nuovo video video dedicato al sorteggio del giocatore jolly per quanto riguarda la sesta settimana del fanta tennis sorteggio che deciderà quale sarà il giocatore o la giocatrice jolly della settimana intanto prima di procedere andiamo a vedere quali sono i quattro tornei che valgono per il fanta tennis questa settimana intanto prima di tutto iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella per andare per avere le notifiche in tempo reale andate sul sito del fanta tennis www.fantatennis.net per iniziare a giocare per partecipare al gioco per scaricare il regolamento per capire come funziona c'è il bottone al canale telegram vi potrete unire per partecipare oppure potete fare il vostro pronostico commentando questo video con gli vostri 8 giocati giocatori o giocatrici che avete deciso di scegliere per questa settimana come detto i tornei 500 di rio de janeiro 250 di doha per quanto riguarda i maschili e 250 di marsiglia questi sono i tre tornei maschili e poi si parte con il primo mille della stagione ovvero dubai femminile il vt a che vale mille punti forse meno perché sapete che la vt anno non assegna proprio esattamente il punteggio corretto non assegna cioè non assegna quasi mai mille punti o 500 sono sempre un pochini di meno però insomma è un categoria mille e quindi procediamo con i nostri dati magici questo è il dato da quattro facce come potete vedere che ha i numeri dei tornei numero uno rio de janeiro numero 2 doha numero 2 doha numero 3 marsiglia numero 4 il vt a mille di dubai procediamo tirando giù il dato vediamo qual è il numero che esce del numero 4 quindi attenzione attenzione perché potete vedere dalla telecamera che il posto in basso è per il numero 4 quindi numero 4 sarà una donna la giocatrice jolly di questa settimana torneo torneo ricco di partecipanti torneo con addirittura una con 44 partecipanti d'obbligo dal tabellone quindi procediamo con il dato delle decine dato delle decine che dice numero 30 quindi la decina e la 30 avremo sicuramente eccola qua 30 avremo sicuramente andiamo a vedere quali sono allora c qui allora la giocatrice numero 37 giocatrice numero 37 non so se si riesce a vedere il numero eccolo qua 37 quindi andiamo a contare perché questo bisogna fare 33 e vi dirò a breve il nome della giocatrice il tempo di contare allora la giocatrice jolly di questa settimana sarà la calinina sarà la calinina la la giocatrice jolly di questa settimana quindi calinina la giocatrice jolly di questa settimana a linea calinina l'ucraina è la giocatrice jolly andiamo con la riserva riserva la prima riserva ancora 30 ancora 30 e chiaramente questo è fatto solo per per conferma per il 30 38 quindi la giocatrice dopo la fernandez è la l'eventuale prima riserva e poi la popat la potatova la numero 42 è la terza riserva quindi ripeto calinina fernandez e potatova nell'ordine le giocatrice jolly con la calinina che sarà la giocatrice jolly del master mille del si del vt a mille di di dubai ci vediamo dopo per il dopo partita di anni siner ciao a tutti